Parte dall'educare i giovani ad un corretto e sano rapporto tra uomo e donna, la prevenzione dello stalking e del femminicidio. Ne ha convinto l'Istituto Casimiri di Gualdotadino che al tema ha dedicato un incontro stamani al Teatro Salesiani dove il relatore d'eccezione è stato il giudice presso la Corte d'Appello di Perugia Massimo Ricciarelli, al suo attivo numerosi casi che hanno riguardato a vario titolo anche donne uccise, violentate, minacciate da mariti, fidanzati, ex compagni violenti. Un fenomeno che in Umbria, come in Italia, ha i suoi casi eclatanti, l'ultimo in ordine di tempo, quello di San Giustino che ha visto l'omicidio di Alexandra Buffetti da parte dell'ex fidanzato Cristian Rigucci a sua volta suicida. Femminicidio veri e propri pochi per fortuna, sono circostanze molto occasionali e limitate, mentre sono molto più numerosi gli episodi di violenza domestica o di stalking che vengono con una buona assiduità e continuità perseguiti dall'autorità giudiziaria Umbra con le modalità a questo fine stabilite, in particolare l'utilizzo delle misure cautelari del divieto di frequentazione dei luoghi frequentati dalla vittima e dell'obbligo di allontanamento della casa familiare. Poi ci sono i processi ma questi sono un secondo momento, ma sul piano preventivo e quindi dell'efficacia dell'azione giudiziaria devo dire che la Procura della Repubblica e i giudici si muovono su questo versante con una buona tempestività. A livello di prevenzione cosa si può fare di più? Essenzialmente la diffusione del messaggio del rispetto delle donne e quindi del rispetto del genere che deve partire dalla scuola, dai comportamenti nella quotidianità e nella famiglia. Quindi siamo tutti impegnati su questo versante, genitori, insegnanti e uomini delle istituzioni in una visione unitaria del problema, non c'è una persona che può sentirsi esonerata dal compito.